Dopo un anno di stop, causa Covid-19, riprende il campionato di Serie C Gold di Basket. La New Basket Agropoli apre il campionato domenica 7 marzo con Basket La Mezzia. Sei in tutto le compagini che sfideranno nei dieci incontri previsti in calendario nel girone B della New Basket Agropoli. Dovrebbe seguire poi una seconda fase di incrocio di gironi, tre in tutto, tra quelli campani, calabresi e quello pugliese. Le compagini meglio classificate accederanno ai play-off per raggiungere l'ambita promozione in Serie B. La prima gara si svolgerà tra le mura amiche del pala di concilio alle ore 18 senza la presenza di pubblico. Viste le prescrizioni anti-Covid-19 sarà possibile seguire la diretta della gara sulle pagine Facebook della New Basket Agropoli e su Cilento Channel, canale 636 del Digitale Terrestre. Le parole di Coach Lepre. Quest'anno abbiamo puntato su giovani locali che sono in numero di 9 su 12 componenti del roster. Solo tre sono i giocatori non del posto. Tante le società che si sono ritirate noi abbiamo invece scelto di ridurre il budget per ovvie motivazioni vista l'insicurezza dettata dal periodo di pandemia. L'obiettivo è la salvezza ma accarezziamo l'idea di raggiungere i playoff non lo nascondo.